... Bentornati nel laboratorio di videogiochi Per quest'oggi ho trovato dei livelli molto particolari Perché di solito in un episodio giocavamo all'incirca 8 giochi differenti Ma oggi ne abbiamo soltanto 6 Con la speranza che però questi 6 livelli siano di una qualità maggiore rispetto al solito E siano fatti estremamente bene Non ne sono sicuro Ho cercato qualcosa di particolarmente diverso l'uno dall'altro Volevo parecchia varietà oggi Quindi non ci perdiamo in chiacchiere E vediamo cosa è riuscita a creare la community del laboratorio di videogiochi Dopo 3 mesi di lavoro su alcuni di questi progetti Muffet Fight Undertale Hanno cercato probabilmente di rifare appunto una boss fight di Muffet di Undertale all'entrano nel gioco Ci saranno riusciti? Controlliamo Con quale musica? Ho un punto vita! Ho solo un punto vita! Di solito non funziona così, no? Cos'è sta musica? Ok Di sicuro la musica di Muffet Qua non ci starebbe a tema Musica di Muffet Nice! Di sicuro che la sto sentendo nelle mie orecchie Non l'ho messa con l'editing Tanto devo resistere un minuto Da quanto sono qua dentro? Allora Al momento attuale ho un dubbio Se Ok È finito il gioco Se il cuore si muoveva in quel modo Perché hanno scelto la boss fight di Muffet Che è una delle poche Nel gioco di Undertale In cui il cuore non si muove in quel modo? Musica Ma stava scegliere un'altra Mario 3D World Mount Beanpole Allora Questo qua dovrebbe essere un livello di 3D World Molto riconoscibile Perché questo qua è esattamente uguale A come è fatto nel gioco Tanto volete vedere cosa succede in un videogioco Quando non fanno in modo che la telecamera non abbia limiti? Succede questo I videogiochi sono difficili da fare Oh Posso scalare anche questi? Salve? Che non sei una delle fatine da salvare? Ora iniziamo a scalare il mondo Salve ti posso saltare in testa? No hanno soltanto dei creati a livello Non c'è interazione con nulla probabilmente Può però questo esplodere Wow Wow Ok Ok non ci vedevo niente No non cadere Ok Madonna È scivolosissimo Saliamo qua Eh 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 Là c'è il one up Non mi interessa la one up No 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 Ma perché Non pensavo di giocare a un livello troll anche nel laboratorio di videogiochi Questa volta Lui lo ignoriamo E andiamo a piedi E andiamo a piedi Ok Lì non ci dovrebbe essere la fine del livello? That's the end I ran out of noodles Non c'era più spazio per programmare altro Abbiamo finito il numero massimo di cose che potete includere nel livello Quindi non c'è la stella finale Ora però abbiamo una cosa Che ho visto un sacco di persone piacerebbe se succedesse Ma non abbiamo ancora ricevuto niente del genere da parte di Nintendo Quindi il laboratorio di videogiochi ci aiuta per ricevere un gioco di Kirby 3D Kirby's 3D Garden Non so che sia Ma voglio provare Sono molto incuriosito da questa cosa qua Oh Ok ho una barra della vita in alto a sinistra Ho un numero di stelle chiavi in alto a destra Con Y Assorbo e attacco Tipo se vado da lui E faccio così Oh E così ho spettato fuori Tante guardate la mia barra della vita è un modello 3D Che passa attraverso La mappa stessa Mi servono 8 chiavi in totale credo Wow Ho scoperto come schippare la roba So volare sopra le scatole Allora se utilizzassi la scatola per arrivare là in cima Oh Dai 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 No C'ero vicinissimo Ci dovrei provare E tra l'altro non posso farla andare a destra Perché a destra va fuori dai limiti della scatola Ed espona subito Vai, 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 yes, yes, yes Oh, devo sconfiggerlo? Ok, non me la prendeva Non me la prendeva Dicevo io Me l'avevo meritata al 100% Ho trovato un modo assurdo per ottenere sta cosa Me la meritavo Sono accorto di punti vita No, 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 no Ok, sono in questo gioco da troppo tempo Basta Basta Sono quello che è entrato a troppo tempo Tiratemi fuori In ogni caso Nintendo Keyblade 3D Pensaci Super Garage Odyssey Abbiamo già visto in passato Una ricreazione di Super Mario Odyssey Ma questa cosa dovrebbe avere pure i movimenti con cappi Quindi le cose più complesse nel gioco E dovrebbe essere fatta ancora meglio Proviamo Ok Vediamo Oh 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 Posso fare sia il tuffo in avanti Sia lanciare cappi Rimbalzare all'incirca tipo su cappi E posso pure impossessare nemici Interessante Interessante, ti posso assorbire? Sì Wow A che velocità va? Cos'è? Cosa mi rappresenta? Ahia Ok è lava Mi sa che lava Mi sa che Ah Non so cosa sia Sono morto Ora abbiamo un Marble Roller È un vecchissimo gioco Che giocavo sul computer Io all'epoca E quando ho visto E qualcuno ha cercato di rifarlo Mi sono detto Devo per forza provarlo Marble Roller Quanto è una buona ricreazione Di Marble Blast E quei giochi lì? Per il momento Non è molto sbagliata Addirittura Ti prendi la pallina E te la fa rimbalzare In questo modo qua Ok B per saltare Rimbalza un pochino In modo strano Che figata Questo non so quanto Possa Interessare come gioco Ma a me interessa molto Vole assolutamente Vole assolutamente provarlo Ok 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 Quanto ne ve l'ho fatto L'importante è che mi porti Quello successivo Questo mi sembra Il più complesso Finora Perché c'è poco spazio Per muoversi Piattaforme Che pure si inclinano Oltre a muoversi Ed è un po' Un casino incredibile Ok Sarebbe un livello Un sacco avanzato Per marble blast normale Qualcosa di così complesso Ok va bene Si può andare avanti Basta non sbagliare Qua devo evitare Soltanto le piattaforme Non è troppo complesso Potremmo anche saltarle E mi sa che qua Devo farlo Ma Meglio non Spingere troppo La fisica del gioco E Inizia da capo Carino Piacerebbe un sacco Un nuovo marble blast gold Ma Tanto abbiamo qualcos'altro Che potrebbe benissimo Rimpiazzarlo Ovvero Monkey ball garage Tra qualche mese Esce la collezione Di giochi Di monkey ball E io sono curiosissimo Di provarla Perché mi ispira Un sacco come gioco Perché mi ricorda Marble blast Ma qua abbiamo Monkey ball garage Che ci permetterà Di avere un assaggio Della qualità del gioco Che andremo a giocare Tra un po' di tempo Oh mio dio Oh mio dio Quanto ho fatto bene Oh mio dio Quanto ho fatto bene Oh mio dio Quanto ho fatto bene Wow Avevo cercato giochi Che speravo fossero belli Per il video di oggi Questo è fatto estremamente bene Oh se sbaglio una volta Da inizia da capo Ok buona sapersi Questa volta vado Un pochino più piano Perché appena arriviamo in cima Poi non riesco a fermarmi Altrimenti Ok Ok Fai 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 Secondo livello fatto Per fortuna Ok livello 3 C'è pure un livello 3 Non so quanti ce ne siano Che dove ce ne sia Almeno un altro Perché mi è sembrato Di vedere qualcosa Con l'angolo dell'occhio Oh mio dio Ok Ti prego Ti prego Yes Ok Quarto livello Quarto livello Il fatto è che si sbagli Una singola volta Inizia da capo Questo è quello che mi preoccupa No No Sapevo che c'è un buco Alla in mezzo No No Non mi fa iniziare da capo Lo devo finire Ok Sono tornato al quarto livello Ora Sapendo che c'è un buco Là al centro Devo Fare così No Era la peggio di prima Ho tenuto per muto destra Non so come fare Ma ce la devo fare Ce la devo fare Forse la soluzione Non è andare veloce Andare piano E tranquilli Non lo è Non lo è Non lo è lontanamente No Ce la devo fare Ce la devo fare Ce la devo fare Ce la devo fare Dai questa volta buona Non lo è 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 Yes 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 Yes! C'è altro! No! No! Se io muoio devo fare tutto da capo. Per oggi è tutto. Quando c'è il gioco completo... Se è così... Oh, boy! Oh, boy! Oh!